Eccomi qua, è occasione per me ricordarvi che YourSolution ha rinnovato il proprio sito, vi invito ad andare a visitarlo, i riferimenti sono www.your-solution.it, lì potete trovare tutti i nostri riferimenti, l'email info chiocciola your-solution.it e potete trovare i nostri riferimenti telefonici 0372 20405. Vi invito ad andare a visitarlo perché su questo sito potrete trovare tutto quello che fa YourSolution e quali sono i partner di YourSolution. FC Lab ormai lo conoscete, il nostro partner da sempre in questa avventura anche televisiva di promozione delle nostre aziende e all'interno del nostro sito troverete tutto quello che è la nostra area di azione, le soluzioni su misura, la protezione, tutela e la pianificazione e gestione, i nostri partner, le nostre aziende con cui lavoriamo. È per me importante anche ricordarvi che YourSolution ha organizzato un evento, un evento che si ricollega alla nostra prima puntata di questa stagione di Restart che riguarda la finanza comportamentale. Sarà una serata organizzata sempre con la presenza, con lo special guest, il dottor Oliviero Castellani. Parleremo di finanza comportamentale, il titolo della serata è Turbulenze nei mercati finanziari, conoscere per agire ed è una serata importante, importante perché ci aiuta a conoscerci meglio all'interno delle nostre scelte, delle nostre decisioni, del nostro processo decisionale per pensare meglio ai nostri obiettivi, i nostri obiettivi presenti e futuri per la nostra famiglia, per le nostre aziende. È importante capire quali meccanismi scattano all'interno della nostra mente, del nostro cuore, perché c'è mente e cuore nelle nostre decisioni e quindi vi invito assolutamente a interessarvi, ad avere tutti i riferimenti all'interno del nostro sito. Lì potrete trovare, potrete prenotarvi perché i posti sono limitati, l'evento è gratuito e sono limitati a 50 posti e poi sarà occasione di conoscerci meglio all'interno dell'evento perché ci sarà un momento conviviale in cui potremo conoscerci, parlare e perché non brindare insieme per il termine, per una serata di successo e per la fine anno lavorativa. Vi aspetto, vi aspetto numerosi, vi prego di volervi informare, di prenotare il vostro posto perché davvero i posti sono limitati e mi dispiacerebbe come il nostro ultimo evento impedire a qualcuno di partecipare. Vi aspetto numerosi, grazie.